Antonio Martorella, quest'anno titolo regionale conquistato con quelli della notte, titolo provinciale per 40 con CTV la notizia però dell'estate è questa fonte ufficiosa del nuovo mister del Pescara Smile avrà Antonio Martorella Stasera parliamo della fine della stagione sportiva 2013-2014, l'hai detto tu sono state due vittorie simpatiche che ho condiviso con due gruppi diversi per caratteristiche personali ma altrettanto formati da gente validissima che ama questo sport, che ama il calcio e l'Unione Italiana Sport per Tutti, il comitato provinciale e anche il comitato regionale sono riusciti a catturare la voglia di calcio che c'è sul nostro territorio e a dargli una visibilità veramente molto importante quindi bravi voi, bravo il movimento e brave le persone che ruotano intorno a questo movimento per quanto riguarda quindi il Pescara Smile dobbiamo ancora aspettare la conferma ufficiale ma non è questione di conferma, è che questo è un momento ludico per la vita di ciascuno di noi questo momento ludico si deve incastrare invece con le vite professionali ci sono delle cose che ancora si devono incastrare e poi tanto se è una questione di poco ufficializzeremo tutto quello che c'è da ufficializzare grazie alla prossima a voi, ciao grazie